Festival Notti di Stelle, Bari Vecchia ospita Chopin, Festival Bari in Jazz, visite guidate nella città vecchia, concerti di band emergenti e arte contemporanea. Sono soltanto alcune delle iniziative previste nel programma Notturni 2010, il programma dell'estate barese, il cui titolo è un omaggio a Chopin. Nonostante Italia e la cultura stabiliti dal governo nazionale, dunque Bari vivrà un'estate dignitosa a livello di eventi e spettacoli. Abbiamo quadruplicato gli eventi rispetto all'anno scorso con un budget che è inferiore di quello dell'anno scorso di 100.000 euro e significa che abbiamo investito 200.000 euro in spettacoli in un momento in cui vi assicuro c'è bisogno di tutto in città. Il sindaco però lancia un grido d'allarme perché fuori dal budget del settore cultura restano... Il Petruzzelli, la nostra partecipazione al teatro pubblico pugliese e il premio Tartarella. Abbiamo finanziato la stagione di prosa ed è una stagione di prosa importante, una delle più importanti d'Italia se non forse proprio la più bella in assoluto. Il Petruzzelli, la battaglia è in corso. Per il premio Tartarella oggi ho spiegato che l'investimento di 150.000 euro per realizzarlo rischia di non essere possibile. E quindi probabilmente sarebbe importante rendere anche il premio Tartarella come il consorzio e come il Petruzzelli bene comune di provincia, regione e comune. Grazie. 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 Grazie.